La formazione che io personalmente vorrei la immaginerei proiettata all'interno dei laboratori della NASA, lo so io vado al CERN spesso, tipo all'Agenzia Spaziale Europea, cioè vorrei fare la mia formazione come docente di fisica nei posti in cui si fa la fisica figa, cioè bellissima, esplosiva, meravigliosa, quindi io sono abituato ad andare al CERN, però per esempio sarebbe un sogno per me andare alla NASA, perché è bello da docente di fisica e matematica torni a scuola e racconti i giovani ragazzi preparati che studiano, laureati nelle materie scientifiche dove vanno a finire, in questi posti fighissimi. Io ho un ex studente che ho portato al CERN e che adesso lavora per la robotica alla NASA e ha fatto con me, ricordo, un'alternanza scuola, lavoro sulla robotica in quella situazione, quindi io mi sono illuminato d'immenso. Per i professori, per tutti noi docenti, quindi non solo per me, ma qui allargo un po', vorrei una formazione proiettata sull'uso della voce, la comunicatività, la capacità di interagire con gli altri, perché questa è una cosa che manca ad alcuni docenti e che compensa il fatto che questo mestiere, quello dell'insegnante nel 2023 è uno dei più complicati del mondo, è uno dei più difficili del mondo, perché la scuola è fortemente in cambiamento, gli studenti si concentrano sempre di meno e questo è un grosso problema e noi dobbiamo essere capaci non di intrattenere, ma di rendere appassionante la materia che raccontiamo, che insegniamo e quel renderla appassionante si sviluppa attraverso un percorso di formazione sull'uso della voce, sull'uso della comunicazione e poi tu personalmente cambi in questo tipo di formazione, perché tu sei un'identità che si evolve e acquisisce qualcosa di più. Nel mio personale percorso di prof. digitale i pro sono sicuramente uno dei pro più forti e la capacità di essere sempre a disposizione dello studente anche, diremmo, una volta dicevamo in asincrono, cioè offline, ho creato tante lezioni di fisica e di matematica sul mio canale YouTube, queste lezioni sono sempre a disposizione, mettiamoci nell'ottica di uno studente che deve studiare a casa, può mettere stop, può ricominciare, può vedere più volte una lezione, questo è un grandissimo pro che io da studente non avevo e trovo una cosa molto efficace. Il contro, uno dei contro più forti ultimamente, negli ultimi anni che personalmente ho dovuto affrontare, ho cambiato strategia è l'uso dei tablet in classe in ogni momento, per quanto mi riguarda una pratica sbagliatissima, perché lo studente sul tablet si distrae, questi sono proprio dati oggettivi, lo studente sul tablet riceve notifiche, si mette a giocare, tu puoi essere la persona più carismatica di questo mondo, gli arriverà la notifica, lo studente cliccherà sulla notifica, passerà su WhatsApp mentre tu stai parlando, questo ci dobbiamo permettere a scuola? No. Allora io personalmente con i miei ragazzi ho fatto un patto, io arrivo, si fa lezione, loro devono partecipare, si chiudono i tablet, si aprono i quaderni cartacei e si lavora sui quaderni cartacei, finita la lezione io assegno alcune task, per esempio cercare il coefficiente di dilatazione di un determinato materiale, guardare le tabelle online, confrontarsi con esercizi fatti, lavorare su una mappa, andiamo sui tablet, ma ho cominciato a dividere, a separare e sto facendo molta fatica perché i ragazzi bene o male, come noi adulti, perché è inutile essere ipocriti, sono molto legati agli strumenti digitali, al telefonino, al computer, abbiamo sempre il telefono in mano tutti quanti, quindi a scuola dobbiamo abituarli a non avere il telefono in mano, attenzione abituarli, non imporlo, la sacchetta con tutti i telefoni, mettete i telefoni qua, te mettono il telefono là e ne hanno un altro in tasca e che abbiamo fatto? Niente, è faticoso, è difficile, però dal digitale possiamo prendere e il digitale lo possiamo mettere da parte e dipende da noi.